Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, come mi è stato chiesto di fare, c'è stata una persona che mi ha detto perché non fai un video in cui parli del tuo film preferito e quello che invece non ti piace. E quindi eccomi qua a fare questo video, direttamente dalla mia stanza. Allora, praticamente io più di fare, diciamo, una cosa del genere, direi i generi che mi piacciono. Allora, i cartoni animati praticamente mi piacciono tutti. E poi vabbè, sapete qual è proprio il mio preferito? Guardate che collezioni, cavallini, quindi... Sì. Che tra l'altro io non vedo l'ora che facciano la nuova generazione per vedere cosa cambia e cosa no. Anche se poi sono sempre loro. Chiusa parentesi. Poi, i cartoni animati, sì, mi piacciono tutti. Però quelli che mi piacciono di meno sono quelli in cui i protagonisti sono uomini. Cioè, perché alla fine sono cartoni animati più da maschio che da femmina. Però mi piacciono anche quelli. Per quanto riguarda i film... Mi piacciono i film d'amore. I film di avventura. Queste cose qua. Però detesto i film che fanno paura. I film... Quelli praticamente che sono vietati agli adulti perché ci sono scene di sangue. Io lo detesto proprio. Perché io, anche se comunque sono arrivata a 27 anni, però comunque... Certe scene, anche se so che è finzione, so che gli attori stanno facendo soltanto finta, però mi toccano. Quindi preferisco di no. Poi è chiaro che se mi tocca guardarlo, alla fine lo guardo, però no. Invece per sorpresa, mi piacciono molto i documentari dove fa vedere, per esempio, la violenza che viene fatta alle donne. Perché mi piace? Perché sembra che ho detto un controsenso, no? Perché praticamente... Una cosa che... Cioè, ai film lo odio, però se fa vedere un documentario di una storia vera, stranamente mi piace. Non è proprio così. Diciamo che mi appassiona perché... Perché siccome sono anch'io una donna e siccome in passato sono stata vittima di violenze, forse farò proprio un video su quest'argomento, perché mi sembra che l'avevo sì fatto, ma non proprio parlando solo di quello che mi fosse capitato. Quindi penso che farò proprio un video. Per fortuna nel mio caso non è stata sfiorata, diciamo, la sorte, però me la son vista brutta e forse mi attira, perché se andrò a una donna, voglio cercare di capire parecchie cose. Parecchie cose, tipo cosa spinge un uomo a essere violento con la propria donna, perché un uomo che ama non può essere violento e cose così. Anche se poi sinceramente mi fa male vedere poi quando queste donne vengono uccise. Poi mi piace il programma 16 anni incinta, ma più che altro mi piacciono tutti i programmi di gravidanze, perché adoro i bambini, quindi... E poi voglio cercare di capire cosa si prova prima che toccherà anche a me, perché prima o poi penso che toccherà anche a me partorire. Anche perché comunque tenendo presente che io mi voglio comunque sposare con il mio fidanzato, quindi non è che rimaniamo soltanto noi due, poi alla fine cercheremo di provare. Quindi alla fine, purtroppo toccherà a me partorire tra noi due, quindi devo cercare di capire cosa si prova. E adesso vi saluto presto ragazzi.